Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Topo Pursuit, una scarpa da trail running con drop 0 per terreni tecnici di casa Topo, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica di queste Topo Pursuit. Per quanto riguarda la suola troviamo una Vibram Mega Grip con un tassello alto 6 mm, intersuola come vi dicevo con drop 0 in materiali Zip Foam di Topo, il tutto per un peso di una taglia 42 di 306 grammi. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Topo Pursuit. Nel questo caso come vi dicevo troviamo una Vibram Mega Grip, senza tecnologia Traction Lag, una suola che corre da tacco a punta per tutta la scarpa, una suola che ha un tassello di 6 mm, veramente alto. Questo le dà un ottimo grip su terreni molto morbidi, come può essere il fango, anche fango molto scivoloso. E vi assicuro il Mega Grip poi, lo sappiamo, tiene molto bene ed anche su roccia fa il suo bel lavoro. Infatti su roccia che sia asciutta o bagnata questa suola tiene veramente bene. Diciamo che alla fine è una suola che va bene un po' ovunque, soprattutto su quei terreni rocciosi e morbidi, perché tra Mega Grip e i 6 mm di tassello davvero gli danno un'ottima trazione. Per quanto riguarda l'intersuola, come vi dicevo, intersuola in zip foam e naturalmente la particolarità che è un drop zero. Abbiamo un'altezza di 17 mm dell'intersuola sia sull'avampiede che sul tallone, poi compresa l'altezza del tassello e della soletta comunque arriviamo a 28 mm totali. E come dicevo, un drop zero, una scarpa che sicuramente con questo drop ci dà un appoggio molto naturale, una scarpa per chi corre tanto davampiede, poco di tallone, una scarpa che secondo me non è per tutti con questo drop zero. Ma poi dopo vediamo per chi è più consigliata questa pull suite. Per quanto riguarda il zip foam, secondo me è davvero un ottimo materiale. Ha un ottimo compromesso tra morbidezza e reattività. Quando ci corriamo non si sentono tanto le rocce sotto al piede, a meno che proprio non prendiamo uno spuntone proprio particolarmente appuntito. Quindi davvero un ottimo intersuola. E poi comunque essendo una scarpa abbastanza bassa l'intersuola, questo fa sì che sia anche molto molto stabile come scarpa. Non c'è il rischio di prendersi delle storte, ma di questo ne parliamo anche quando vediamo il tallone. Passando alla tomaia, iniziando dal puntale, qui troviamo un puntale abbastanza rigido. Non proprio rigidissimo, se proprio tirate un calcio secco, una roccia, un po' di male lo sentite. Però nel 99% dei casi diciamo che basta per non avere problemi alle dita dei piedi. Quindi un puntale abbastanza rigido. E soprattutto abbiamo tutta una parte in plastica che poi va a proteggere quella parte anteriore della tomaia per evitare che si strappi. Tomaia che corre a tutta lunghezza, praticamente dalla punta quasi fino al tallone. Molto traspirante. Io l'ho trovata davvero molto molto traspirante. Mi è capitato anche di bagnarla questa scarpa e si asciuga molto velocemente. Quindi davvero un'ottima tomaia. Arriviamo alla parte del tallone. Qui troviamo un tallone, come al solito, molto strutturato nella parte inferiore che tende ad strutturarsi e essere più morbido nella parte superiore. Anche se non proprio morbidissimo. Perché comunque abbiamo questa parte posteriore e plastica che tende a farlo essere un pelino rigidino anche nella parte superiore. Come vi dicevo, una scarpa che grazie a questo tallone fa sì che sia veramente difficile prenderci una storta. Utilizzata anche su dei terreni tecnici, davvero ho trovato una scarpa molto precisa e una scarpa con la quale davvero affrontare anche molto velocemente delle discese tecniche. Per quanto riguarda invece l'imbottitura del tallone, è un'imbottitura abbastanza classica, bella morbida. Anche quando andiamo a camminare magari con il piede un po' in obliquo non sentiamo dolore. Quindi questa è abbastanza classica. Invece per quanto riguarda linguetta e lacci, questi abbastanza classici. La linguetta è bella imbottita, svolge bene il proprio lavoro, resta ferma, non si muove. Lacci anche loro fatti molto bene. Devo dire che comunque una volta serrati la calzata è abbastanza precisa, quindi... Ma abbastanza tranquilli, nulla di particolare. Per quanto riguarda la soletta, questa di casa Ortolite, riprendizzata topo, devo dire che mi sono trovato molto molto bene. È estraibile, però io andrei avanti a utilizzare questa qua da tendottazione, però comunque secondo me è buona. Per quanto riguarda la calzata, ebbè, qui abbiamo una calzata veramente ampia ampia. Questa è una scarpa per chi ha un piede, un avampiede, veramente generoso, veramente di grosse dimensioni. Non è una scarpa per chi ha un piede né normale né stretto, naturalmente. Su che terreno vi consiglio di utilizzare questo topo? Come vi dicevo all'inizio, vi consiglio di utilizzarlo su terreni o morbidi, quindi magari del fango, delle foglie, dei sentieri abbastanza morbidi, oppure su roccia, roccia che anche lì tiene veramente bene. Ve lo sconsiglio sulle strade bianche. Davvero sulle strade bianche, magari anche ad alta velocità, non è la scarpa giusta. Questa è una scarpa per terreni, diciamo, anche d'alta quota. Ecco, è una scarpa sicuramente con il quale non farci del fondo valle, sicuramente. Per quanto riguarda invece il runner a cui consiglio questa scarpa, secondo me non è una scarpa da tutti. Potrebbe esserlo, perché comunque è davvero ottimi materiali e le tecnologie utilizzate, però questo Drop Zero fa sì che sia una scarpa per pochi. Per chi è già abituato ad utilizzare il Drop Zero, per chi naturalmente correndo ha un appoggio prevalentemente di avampiede e non di tallone, e soprattutto per un corridore abbastanza leggero. L'ammortizzazione non è altissima, ci si potrebbe fare delle gare, diciamo, fino a media lunghezza, non troppo lunghe, però sì, un corridore che appoggia da avampiede, che sa usare il Drop Zero e magari anche sotto gli 80 kg. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni. Vi consiglio queste Topo Pursuit? Sì, io mi sono trovato veramente molto bene. Secondo me, come dicevo, è un'ottima scarpa per quei trail d'alta quota in cui ci troviamo magari tanto fango, in cui troviamo anche tanta roccia bagnata, senza nessun problema. Vengono vendute a un prezzo ufficiale di 185€, l'ail ne si trova un pochino meno. Secondo me anche il prezzo ci sta, alla fine è una scarpa comunque anche duratura nel tempo, grazie anche alle tecnologie utilizzate, quindi è una spesa che secondo me vale la pena sostenere. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esaurante e esaurante anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!